bella ragazzi sono Spartan sul tubo e siamo tornati su Halo Reach proseguiamo la situazione è critica e qua c'è il mondo come in tutto sto cazzo di posto tutta Reach è invasa e noi dobbiamo avanzare io e Mil siamo rimasti solo noi e c'è uno con la lama che lancia la granate e che dobbiamo eh sì allora qua ci sarà da divertirsi parecchio perché ho già capito l'andato non abbiamo neanche granate tra l'altro quindi facciamo a pezzo questo bastardo eccolo là che arriva cominciamo a indebolirlo vai a fare in culo stronzo ok non stiamo a prendere la lama ricarica evitiamo un po' di colpi e via andiamo ad aprire le difese hai rotto il cazzo grazie sta cercando di squagliarsela chi? c'è il bastardo che vuole scappare a stronzi a pezzi di merda ok così facciamo un po' eccoli qua una crepa pieno di gente non ho una granata neanche se la ordino facciamo fuori un po' di fronteria leggera ma qua le munizioni scherseggiano porca troia è andato ok si è crepate però ok libero eh grazie ci credo controllino subito ok ok boom stai calmo keys ok dai liberiamoci di questi 4 pagliacci ok forza ragazzi mi stai divertendo eh ma vaffanculo io mi sto divertendo ho perso tutta la mia squadra allora qua abbiamo un lanciagranate che io sostituirei ok no per ora teniamo questo si teniamo questo ok qual è la situazione c'è una catapulta magnetica lassù se la perdiamo l'autom non avrà più copertura entrerai in oltre no per la chies siamo alla piattaforma ok il mio pelican è pronto sgombrate la zona e sono da voi ok bene signore ok ci siamo io mi metto alle armi tu vai alla piattaforma e consegna quel pacchetto volentieri qua sta arrivando il pianeta terra mi serve aiuto a lui serve aiuto così si fa questo cacca puttana andiamo a vedere se troviamo qualche arma c'è qualche mitraglietta mitragliatore questo già va meglio sono in posizione farò fuori quante più navette possibile bravo ok sei nei guai sarai tu nei guai cerchiamo di eliminare i quanti più frutte ed elite e tutto quello che ci capita addosso possibili possibilmente senza che mi li facciate salire qua sopra e si è assorto stiamo sparando da uno grande Emil quello era per K ah tch grande quello era per Jorg farò spuntare Sang bravo fagli il culo fagli il culo Emil che non so se si è capito ma Emil sta usando la la catapulta non so com'è si chiama con l'affare lì e sta sparando su tutte le navi è un po' incazzato perché gli hanno fatto fuori tutta la squadra i suoi fratelli ti faccio a pezzi boom tanto ti beccati questa allora io cerco questa si 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 è arrivato dal calzo si sto provando vita occhio arriva altra gente ciao stronzo occhio occhio la campò ottimo ma ho mancato cazzo gente parecchia porca puttana è caduto vieni qua pezzo di merda vai a fare in culo c'è uno a sinistra e uno vai a fare in culo pure te boom si era sparato in faccia imbecille si si che mi prendi fai tranquillo che mi prendi a natale sta arrivando il mondo io non so cosa usare attenzione c'è un po' incazzato ti faccio spesso dove fosse solo uno magari non abbiamo delle armi di supporto delle mitragliatrici forse no eh ne abbiamo altri in arrivo state comodi ragazzi ci sono solo altri in arrivo allora abbiamo altre munizioni quello è sicuro prendiamoci questo e andiamo a giocare ai cattivi occhio ragazzi che sta in mezzo figlio di puttana che cazzo è questo pezzo di merda a giocare di questo è andato oh fanculo non so più dove cazzo andare è andato anche questo ok spalle vai a farti fottere devi ricaricare ottimo boom merda stiamo appreso ok mamma mia che cazzo di battaglia controllino ragazzi forse il video verrà più lungo a sto giro ma va bene lo stesso ce ne facciamo una ragione no no però siamo a 9 e 20 ok andiamo ottimo Emil cazzo si sacrifica anche per noi avvicinamento alla piattaforma delta è bello è bello vederla spartan al si aveva garantito per lei non solo per me non le dimenticheremo mai un incrociatore modifica la rotta per intercettare la auto noble four apri il fuoco su quella nave o siamo finiti mi ricevi avrà la tua via di fuga scena epica lancia qui è capitano abbiamo il pacchetto rientriamo all'auto passo ricevuto io sono pronta spettacolo non è il tesali a bordo questa per scatenarsi l'inferno negativo penso io al cannone buona fortuna anche a te sparta emil non spazia giusto li ha battuti spettacolo ok signori è l'ora di aprire la strada alla pillar si signore emil si è sacrificato l'ultimo della squadra noble si è sacrificato abbiamo zeloti precisi cattivi come l'aglio eliminiamo di prima la fanteria di supporto preso ciao zelota raggiungiamo la catapulta non è finita punizioni armi più di uno zelota armi pesanti stiamo all'occhio preso preso lo zelota in bocca non è facile tutti i giusti bastardi anche noi abbiamo qualche armetta niente male spettiamole puttana porca puttana ci rimaniamo secchi allontaniamoci ricarica si ciao chiami la ciolla l'altro zelota è andato è rimasto quello più stronz vediamo di mi spara ripetutamente ecco qua ci fa il culo ok 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 no fa il culo pezzo di merda occhio non so se è finita a sto punto vada per il corpo a corpo chi è rimasto ammazzo ottimo fatta bastardi emil te li sei portati dietro sti figli di puttana pezzi di merda pezzi di merda grande fratello ci penso io ok fuori uno fuori due fuori tre e buttiamoli giù e buttiamoli giù e buttiamoli giù dai cazzo ok speriamo un attimo moriremo aspetta se non spara siamo morti siamo morti è andato eh si siamo morti no scusate ragazzi lo immaginavo controllino veloce si ragazzi farò un video magari un po' più lungo ovviamente però mettiamo tutto insieme ci se ne frega dal finale spettacolare forza prima quelli più vicini prima quelli più vicini uno due uno ci spara già è andato occhio è andato ok banshee molto fastidiosi uno due ok aspetta 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 ok ok colpiamo quello andato ok andato ne arriva un altro buttiamo giù sto bastardo moriamo di nuovo meno male abbia recuperato un po' di scudo ci vede una vita ricaricare occhio colpiamo a quel figlio di puttana ok bella mira stiamo pronti al decollo fuori dai coglioni Pillar non avete altro che pensare avete altro che pensare mi non ci vedi non ci vedi Gortana, devo solo sapere se li abbiamo persi. La risposta la conosciamo entrambi, no? Ah, sì. E questo è un saluto dalla Bungie, che noi saltiamo, perché Rich, guardate da voi stessi. Non siamo soli. Sopravvivi. Benissimo. Andiamoci dentro, ragazzi. Spartan, caduti. Facciamo attenzione. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Siete pronti, ragazzi? Non vi dirò in cosa consiste questo livello. Lo vedrete con i vostri occhi. Occhio. Sembra di aver visto truppa a destra. Sì. Truppa a destra. Ok. Nemici. Ci attaccano. Avuto. Continuano ad arrivare truppe. Ok. Ok. Occhio. Nemici. Nemici. Incarico. Incarico. Spalle. Siamo gli Spartan. Gli Spartan non muoiono mai. Risultano solo dispersi in azione. Per farti fottere, figlio di puttana. Spalle. Fottetevi, bastardi. Granate. Tutto ovunque. Ritirata. Ragazzi, è in merda. Non è finita. Fino alla fine, signori. Fino alla fine. Sento mezzi pesanti, infatti. Spalle. Mandato. Mezzi pesanti, munizioni. Cecchini. Porca brittana. Merda, merda, merda. E' questa. Venite qua dentro, bastardi. Mandato. Caputana, figlio di troia. Mandato. Spalle. Occhio. Occhio. Oh, tt. Vaffanculo. Pronti, tutti indietro. Via. Merda. Star di pezzi di merda. Non voglio questo. Continuo a cecchinarmi. Signori. Fanculo. Spalle. Signori. Siamo alla fine. Fino alla morte. Siamo alla fine. 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 Vi ricorda qualcosa? Non ci volle molto perché Rich cadesse. Il nemico era spietato, efficiente, ma non era abbastanza rapido. Foste voi a passarci il testimone. Grazie a voi trovammo Halo, svelammo i suoi segreti e piegammo infine il nemico. La nostra vittoria e la vostra era così vicina. Purtroppo non avete vissuto per vederla. Ma voi appartenete a Rich. Il vostro corpo, la vostra corazza, corrosi e fusi nel fuoco. Ogni cosa, eccetto il coraggio, che ci avete donato. E con esso potremmo ricominciare. Senza gli Spartan di Rich nulla sarebbe stato possibile. E con esso potremmo ricominciare. Beh, immagino che vi siate fatti un'idea del perché mi piace tanto questo gioco. Dopo questo finale mozzafiato, secondo me, io vi lascio. Contentissimo di avervi portato questa serie. E niente, salutiamo la squadra Noble che ha permesso ad Halo di nascere, a Master Chief di fare la sua missione. E noi ci vediamo su Halo 4. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.